Siamo insieme oggi a Maria Antonietta Firmani di Parallelo 42, che è una delle associazioni che si occupa di organizzare questa serie di eventi che vogliono unire il gusto, la gastronomia in generale e l'arte. Benvenuta Maria Antonietta. Salve, buongiorno. Allora, sono eventi legati a una regione in particolare d'Italia, l'Abruzzo, e la cosa particolare è che voi avete cercato di far emergere quello che è il patrimonio culturale in generale, abbinando però tutto all'arte contemporanea. Sì, mi occupo di arte contemporanea da diverso tempo, sempre con l'idea che l'arte sia un veicolo capace di mettere insieme più realtà, quindi un linguaggio, un luogo di comunicazione. Proprio in questa direzione è nato il progetto Arte e Gusto, che è finanziato dalla Camera di Commercio di Pescara, il Presidente Beccia ha creduto a questa possibilità. Con questo sostegno ci siamo messi in giro per coinvolgere direttamente le amministrazioni comunali per dare risalto ai borghi storici d'Abruzzo e di conseguenza poi anche alle aziende dell'agroindustria che raccontano nello specifico il territorio. L'arte contemporanea, oltre al coinvolgimento con Antonello Tolve di artisti internazionali, l'abbiamo coinvolta invitando le biennali del mondo, perché l'idea è appunto quella della biennale, quindi offrire ad ogni biennale, quindi ad ogni paese un castello d'Abruzzo. Questa è una preview, chiaramente è un esperimento con la quale speriamo di poter dimostrare che si possa fare questo e per quest'anno abbiamo invitato la biennale di Istanbul, perché ci è piaciuto questo anche legame forte con l'industria, perché come sapete la biennale di Istanbul è stata realizzata dal più grosso gruppo imprenditoriale turco, tant'è che verrà proprio la direttrice del progetto sviluppi della biennale di Istanbul, proprio per raccontare sì dell'arte ma anche del meccanismo economico e sociale che mette in moto l'arte, che è nel particolare ciò che di più interessa, al di là del progetto estetico. Certo, giustamente l'Abruzzo è un territorio molto ricco sotto molti punti di vista e quindi l'idea di associarla all'arte contemporanea, di in qualche modo rendere più vividi questi due settori, significa che l'arte contemporanea in Abruzzo vive momenti felici? In Abruzzo ci sono molte attività, tutte assolutamente perfettibili, c'è molta ricerca anche, l'obiettivo è quello di mettere un po' a valore tutta questa energia che altrimenti rischia di andare dispersa in mille rivoli. L'arte contemporanea del resto è sempre ricerca, quindi parlare di momento felice non lo so, riuscire invece ad ampliare il raggio di interesse dell'arte contemporanea questo è sempre stato un mio pallino perché a pensarci bene, non so se potete condividere, ma insomma il mondo dell'arte contemporanea quindi con la cultura profonda che esso veicola è un mondo molto ristretto ad una fascia di pubblico anche molto ristretta, anche rispetto alla musica o a tante altre attività, pensiamo anche al mercato dell'agroindustria. E' forse un ambito in cui ci va un po' più di educazione? Eh sì, infatti, per esempio è da poco che si parla molto della Biennale di Venezia, immagino anche sui media tipo TV, i media di massa. Ecco invece l'arte contemporanea è veramente veicola messaggi molto profondi, è una ricerca molto profonda sul pensiero dell'uomo, no? E allora se la società vivesse di più in questo senso, ci fosse una diffusione maggiore anche quantitativamente, allora forse il livello culturale si innalzerebbe, ecco questo è un po' l'idea di fondo, ecco perché mischiare arte contemporanea con l'industria, perché l'industria, perché comunque obiettivamente l'Italia, insomma tutto un po' il vecchio continente dell'Europa, hanno bisogno di sviluppare, di trovare nuove strade economiche e se queste nuove strade di crescita economica sono legate alla cultura abbiamo fatto bingo. Certo, quindi è un progetto che in qualche modo vuole anche proporre un'idea di riconversione del territorio. Assolutamente sì, cioè dedicare allora, si fa un gran dire che l'Italia potrebbe vivere solo di cultura, per la verità poi bisogna trovarlo questo modo e allora questo è un esperimento in questa direzione e bisogna anche un po' investirci, però investire non a consumo, spesso l'arte ha forse un po' la pecca dell'autoreferenzialità, ecco invece no, venirsi incontro, e tant'è che sono molto contenta di aver coinvolto in questo progetto tre licei, allora il liceo linguistico che organizza con una classe intera di ragazzi l'interpretariato, perché abbiamo delegazioni di Olanda, Russia e Turchia, il liceo artistico che ha fatto un lavoro con uno degli artisti e l'istituto, l'alberghiero di Villa Santa Maria che è una scuola di cuochi molto rinomata in Italia, che organizza i vari lounges che ci sono per la degustazione, perché parliamo poi di buyer, non so se l'ho detto prima, di questi paesi sono stati invitati sì la Biennale, però anche i buyer dell'agroindustria, quindi che avranno degli incontri B2B, quindi business to business con le aziende del territorio che quindi avranno l'opportunità di vendere il proprio prodotto, quindi il progetto è strettamente legato sia al mondo dell'arte, alla progettualità artistica, ma anche alla progettualità economica, è un esperimento. È un esperimento sicuramente. Chi sono gli artisti che avete scelto, che avete invitato e come hanno interpretato il territorio? Dunque gli artisti sono, con questa mossa che si chiama Daut Des, di Antonello Tolve, Elena Bellantoni, Luigi Pagliarini, Bianco e Valente, Devrin, Devrin, un'artista turco. Che ha dei ribelli e glu. Sì, grazie. Prego. Allora, loro sono fantastici perché io avevo chiesto ad Antonello, proprio con l'obiettivo di ampliare il raggio di interesse dell'arte contemporanea e anche dei pubblici attualmente magari non coinvolti, di fare un lavoro con i cittadini e infatti questi artisti sono artisti relazionali e stanno realizzando, hanno fatto la residenza, sono qui da lunedì e stanno realizzando un progetto specifico proprio con i cittadini del comune che li ospita. e siamo molto contenti di questo, proprio per raccontare perché appunto sfatare questo mito che l'arte sia qualcosa di avulso della vita quotidiana ma invece che semplicemente racconta in maniera profonda la vita quotidiana e quindi la mossa si chiama Daut Des proprio perché gli artisti danno qualcosa e hanno in cambio qualcosa dai cittadini. Ti chiedo ancora i riferimenti di questo progetto, uno perché ovviamente sarebbe interessante invitare chiunque a passare dall'aburso in questi giorni. Prendete l'aereo e venite, siete i nostri ospiti. Certo, ma magari è anche un modo di visionare il sito e insomma proporre questa modalità di interconnessione tra varie realtà anche in altri luoghi d'Italia. Come no, allora la nostra speranza è che, questa l'abbiamo chiamata preview, noi speriamo di poter fare la biennale vera e proprio di ospitare in ogni castello di abbinare un paese del mondo e una regione d'Italia, quindi di diventare come dire, proprio il luogo di vacanze per l'arte anche delle regioni, quindi ci auguriamo che anche voi sarete presenti in questa sicuramente venite, siete i nostri ospiti nel tour organizzato che inizia domani e durerà 5, 6, 7 novembre. Poi ci sarà un momento conclusivo il 5 dicembre con altri bei personaggi. e poi ecco, con la prospettiva di ampliare con più comuni e con più altre regioni d'Italia e altri biennali del mondo. Benissimo, io ti ringrazio molto Maria Antonietta per essere stati con noi e aver parlato di questo che speriamo sia solo il primo di molti appuntamenti e di molti eventi. Grazie mille, buon lavoro a Maria Antonietta Firmani. Grazie mille, buon lavoro a Maria Antonietta.